Il colore della Piazza Il colore della Piazza Aiuto a te l'aggia Sì, ci fai le sue sue, ma che gli sorghi? E io ti mandavo. Ma di gran come dono le lettere. Quando avevo le lettere addosso, avevo un po' più piccolo, perché se mi ciappavo una lettera, per modo di dire, allora a ciappicare lì, io chiuso di portare la lettera. Invece scappavo pure, figlio, tranquillo, invece cantavo la lettera. Allora alla campagna mi ciappavo sempre, dicendo un po'. In cui avevo sempre, dovevo allì, come si diceva, ammazzavo il massimo sul collo, che poi n'era una stafetta che veniva, dico ti degrazionei, e io dovevo unire una lettera. Quando io arrivo, un po' d'Artalot, io avevo le camionette tutte ferme sulla statale. Allora dove mi passò da lì? Allora giungo a una, dovevo fare anche lì? Tanto sei una misa, e poi tornò perciò, quando arrivo giungo a una, per la passione del Ponte, io ero pieno di macchini, che d'est. Allora giungo a un po' di due, dovevo fare anche la tabacca, che mi prendo da un tricaramele, tanto più che d'accord, che da lì, dovevo trovare la mia amica, la cosina si domandò. Quando io arrivo là sul Ponte, io ho capito, 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 uno su na-zina, io ho capito, e poi troppo, un cuo duro era grossa, e lui mi dicevo che il cuo duro era grossa, allora mi dicevo, come su, ne aggiungo, ne aggiungo, che cosa io sai tu? Poi alla fine dicevo, perché non mollare dopo il caput? Già davanti loro, davanti le altre, mi facevo sempre vero coraggiosa, due giorni e me certo che ero qui, fondevo la verità. Allora mi tirò il mio gius e mi piantò il mio caffè, mi dice, chi è morto? Allora si passò il po' Quando è arrivato il fondo del po', e girò, guarda che coraggio che avevo, e girò, mi si fa il prengrazie, e dire, mi spavano. Invece noi, un po' spavano, allora dove i corigni? Allora mi hanno trovato la mia amica, che doveva lì, e quando arrivo lì, andavo a parire, quando mi spiegò, come, oh, cara, una spia che fai genetica, perché sennò te ci fai un po' te, tutte le famiglie che passano, non mi fai male, ma non mi fai male, e perché? Perché fai la spia? Difatti, io, perché fai la spia. E ti partivi sempre dei sogni? Oh, sempre dei sogni, ma io la campari, poi c'è sempre il giornale che mi portavo le lettere, di allora. Ah, i giornali che ti dico. Ah. E c'è anche il titolo 25 aprile, che hanno fatto la festa a Verena, che hanno tagliato le pelle, che le fai male, e le sentite, che topi del tempo, allora c'è anche la partigian della squadra di... 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 di Gamba. di Gamba, è il mio parietario, è la squadra di Gamba. Qui cavano? La squadra è la squadra di Gamba, quindi per conto loro, è un po' come la squadra del giornale, che tanto riu, le persone hoJo a Schiava, che mi parelli. Non mi fai male, i partigiani della riunione sono belle e ti manco un po' mi è, io mi miro il friello della gamba lì le ponte è andato e quando è venuto arrivare il camion lo ponte è andato allora allora ho fatto il segnale che è un po' mi viene a fare un cazazzo per la ferrovia e tutto lì e tutti i prossiguiti avevano letto di vivere all'inizio a Salanto ma invece di passare per come c'è fuori sempre e passò il ponte e poi il sentiero che va all'inizio e arrivo all'inizio a Salanto e poi passò la torrevia e poi passò la torrevia un po' torrevia no, lo ponte è andato al po' e poi tornai sulla statale lo ponte è andato al po' invece da lì all'inizio io attraverso il ponte e poi dovevo andare in sentiero appena passò il ponte in sentiero che va su con la montagna e poi passò la torrevia 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 e continuo sempre a diventare ribelle, ribelle non ne so mai la parola perché altrimenti ero ribelle, ribelle e poi dico sempre ma cos'è ribelle? ribelle e allora mi dico ma prendere anche e hai un po' trovato la mail la lettera? no, perchè l'aveva la volta e poi mi sorriera e allora non c'è come si può incursi una mazzarbi allora senti all'inizio e arrivo lì quando passò la palla di mazzarbi io non sentivo che va su e lì ero un filetto desbloccato e lì non c'è come tornato e allora lì era che mi fanno fuori senza altro perchè lì c'aveva un po' in quel modo la prima in baga che avevamo a me è che allora ho trovato la mia zia che era malata e infatti è via la sera della mia mamma e avevamo una montagna e lì avevamo una montagna e lì avevamo una mazzarbi come si le manda su lì? una mazzarbi con la finestra con la finestra che scende giù al pezzè di perno ecco ecco e lì dovevo insomma lì ricolle lì e io ero una che dovevo prendermi lì la busta e io ero una che dovevo prendermi lì e io ero una cosa 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 perché avevo riuscita noi ero una cosa e io 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 ero una cosa e poi ero una cosa e poi lì, di faccio la tua e a me oltre e la mia tata a me oltre una nonna e poi a me oltre una missa e poi a me oltre un po' e si chiameremmo, una sabina io che sono avuto e pensi, ma sarà ancora questo. E diventata a prendere un po' perché se ti prende non va a comprenderlo con la patruina che las hai metto. E se ti tornissi in Giavi, ti finirei in Giavi, a questa festa? Allora, non mi fai un po' bene.